E' il numero numero 22, Cristiano, con il numero numero 4, Marce, e con il numero 10, Capitano Clave, e con il numero 11, Zlatan! Con il numero 13, Alessandro! Con il numero 14, Zlatan! Con il numero 20, Ignacio! Con il numero 22, Antonio! Con il numero 25, Daniele! E con il numero 70, Rosso di Sousa! E' il numero numero 100, Rosso Nero! Il numero 67, Luca! A disposizione, benvenuti! Il numero 1, Marco! Con il numero 8, Gennaro! A disposizione! Con il numero 18, Alberto! Con il numero 21, Maximi! Con il numero 28, Urbi! Con il numero 76, Mario! E con il numero 99, Antonio! E con il numero 99, Antonio! Benvenuti! E con il numero 99, Antonio! Benvenuti! E con il numero 99, Antonio! Benvenuti! Jardin! quién? I periodizzati! E con il numero 99, Antonio! Fuel! E con il numero 99, Antonio! Grazie a tutti i ragazzi e complimenti a chi ci dò.